Ma anche la T670i è pronta? Sta solo aspettando il via. Eccole, sono partite pronte a gettarsi a capofitto nel compito assegnato. Mentre le mietitrebbie raccolgono al loro meglio, anche il team di controllo è naturalmente sul campo. I kete di controllo perdite sono stati regolarmente installati sotto entrambe le macchine e poi meticolosamente misurati e pesati. Le cose stanno andando bene anche con la serie T. Nel tardo pomeriggio, nel campo con produzione di 10 tonnellate ad ettaro, la macchina con 6 scuoti paglia ha raggiunto più volte una produttività superiore alle 60 tonnellate all'ora. Ma come riesce la macchina scuoti paglia a tenere testa la paglia sempre più umida? Ora sono le 23.44. Le condizioni sono cambiate più velocemente di quanto ci aspettassimo. il contenuto di umidità della granella ora è pari o superiore al 15%. Con un contenuto di umidità della paglia superiore al 30%, la giornata di raccolta con la T670i è terminata poco prima di mezzanotte. In quasi esattamente 14 ore e mezzo, la macchina ha raccolto un totale di 640 tonnellate di grano. Pazzesco! Pazzesco!